Rella Russe, ricordo da bambino delle bellissime villette di inizio secolo che sono state in questi anni tutte abbattute per costruirci dei palazzoni di dieci piani sopra e questo adesso lo vogliono fare qui davanti alla Mole, noi siamo andati anche a manifestare per sollevare l'attenzione su questa cosa vogliono tirare giù un antico edificio dell'Ottocento e farci un bel palazzo di sette piani che ostruirà completamente la visuale della Mole dall'unico punto in cui è ancora visibile per intero quindi non hanno riguardo neanche più per i monumenti e poi ci sono i piani di grandi speculazioni edilizie quindi la variante 200, la cementificazione dello scalo Vanchiglia che sono poi, con sommarche sicuramente, sono attività devastanti per il territorio perché quando si ricopre di cemento si aumenta la densità di persone aumenta il calore prodotto, aumenta la pressione del traffico e quindi si distrugge per sempre non solo il paesaggio ma proprio l'ambiente della città e poi per concludere ci vogliono mettere sopra un bel inceneritore che costerà mezzo miliardo di euro, quindi noi abbiamo 5 miliardi di euro di debito e ne vogliono di un bel mezzo, è una tecnologia, come sapete già, è una tecnologia obsoleta, inquinante che aumenterà la mortalità da cancro e però conviene perché c'è un giro di soldi sotto questa cosa e quindi questo inceneritore andrà avanti noi a questa visione della città vogliamo porre una visione completamente diversa in particolare io vorrei iniziare da un'osservazione che secondo me è fondamentale per risollevare le soldi di questa città il problema dell'innovazione, perché tutti vi dicono che per creare posti di lavoro, nuova economia bisogna partire dall'innovazione, dai settori tecnologici, investiamo possibilmente non sui SUV di Marchionne che non hanno futuro che quella è una scusa per chiudere i miei fiori nei giorni di tre anni, ma su una mobilità sostenibile su veicoli elettrici, sull'economia verde, ICT, internet e così via questo ve lo dicono tutti, però c'è una seconda parte di questo discorso che nessuno vi dice che se voi andate in Silicon Valley a vedere come sono nate queste grandi aziende innovative perché adesso aziende come Google sono più grosse della Fiat ecco scoprite che i due fondatori di Google quando hanno fondato Google avevano 25 anni che il fondatore di Facebook quando ha fondato Facebook ne aveva 20 quindi c'è un problema mentale, questo senza nulla togliere ai valori alti dell'esperienza delle persone di generazioni più avanzate però specialmente in questi settori tecnologici si può essere innovativi a 20 anni a 30 anni devi già aver costruito, sei già un leader e a 40 anni spesso fai in pensione, cambi mestiere allora se noi vogliamo veramente puntare su questi settori c'è bisogno di un rinnovamento generazionale ma non finto non è il finto rinnovamento del Coppola che tra l'altro era mio compagno di liceo e già a 15 anni faceva il pier alla discoteca e adesso più o meno sembra che faccia ancora il pier alla discoteca non è quel rinnovamento lì perché si può essere vecchi dentro anche avendo 20-25 anni si può essere incapaci e raccomandati anche a 25 anni e si può essere giovani dentro anche a 70-80 però è proprio un cambio di mentalità e il vivere nel ventunesimo secolo, nell'epoca globalizzata, nell'epoca digitale nel sapere cos'è un computer e non farselo accendere dalla segretaria sono queste le cose che poi fanno la differenza quando si deve creare l'innovazione e quindi creare veramente il nuovo lavoro allora anche io ho 36 anni e tra l'altro sono più giovane di tutti i candidati sindaco cosa strana perché alla mia età in altri paesi sei già amministratore delegato di grande azienda, ministro eccetera ma io qui sono il giovane sarò giovane ancora fino a 45-50 anni e quindi sostanzialmente il problema è che anche io ho tanti amici coetanei che sono emigrati a Milano, emigrati all'estero e proprio queste sono le energie che dobbiamo riuscire a riportare qui le persone emigrano perché qui a Torino non c'è una possibilità perché non viene data, perché c'è comunque un giro abbastanza ristretto che governa questa città da 30-40 anni e se tu non fai parte di quel giro lì non ottieni finanziamenti per fare una nuova azienda non ottieni il fido in banca per aprire un negozio non ottieni neanche la possibilità di accedere a posti di responsabilità mentre poi magari non la può Elkan per dire va a fare i disastri che fa però viene messo lì immediatamente e tante altre persone meno famose di lui per cui questo è forse il primo elemento su cui bisogna puntare e poi l'innovazione è anche tecnologica per cui nel trattamento dei rifiuti ne abbiamo parlato della mobilità ci sono tanti piccoli cambiamenti nel rapporto col comune usando la tecnologia che si possono fare per migliorare la qualità della vita ecco però l'ultima cosa che vorrei dire rispetto alla nostra visione della città io vorrei aggiungere una cosa di cui anche qui non parla nessuno secondo me è importante che una città sia anche bella che ci sia della bellezza nella nostra città perché l'obiettivo della vita del governo della città non può essere solo l'efficienza, la produzione l'efficienza dello spostamento dei servizi, della mobilità c'è bisogno che sia un piacere vivere a Torino e Torino è una città bellissima però sta venendo rovinata e noi dobbiamo preservare la bellezza di Torino perché quello è un valore importantissimo che se lo perdiamo nessuno ci restituirà mai io adesso chiuderei così passo la parola da troppo a chi deve ancora rosare mi ricordano almeno una decina di informazioni che vi dobbiamo dare tipo che non siamo candidati solo al comune ma siamo candidati in tutte e dieci circoscrizioni che per votare dovete fare la croce sul simbolo del Movimento 5 Stelle e magari sulla scheda del comune anche sul mio nome è più importante quello sul simbolo ma se lo mettete anche quello sul mio nome non succede che qualche rappresentante di seggio così magari ne fa un'altra da un'altra parte ecco quindi meglio due croci per sicurezza e quindi stiamo organizzando una serie di serate nelle circoscrizioni adesso vi faremo qui qualcuno verrà qui a leggervi le date precise io chiuderei con un appello però l'ho già fatto l'anno scorso lo ripeto quest'anno parlate con tutti quelli che conoscete chiedetegli ma tu sei convinto di votare Coppola Fassino veramente pensi che queste siano le persone che possono costruire un futuro per questa città scoprirete che il 90% delle persone con cui parlate non lo è però non ha mai sentito parlare di noi perché noi non passiamo poco sui media o nulla e se passiamo passiamo in modo distorto con la stampa che pubblica le mie foto con le sforfie per cui auguro prima o poi anche a voi di provare l'esperienza di essere pubblicati sul giornale della città che vedono tutti con una faccia così ecco succede chiedete alle persone se sono veramente convinte di questa scelta fategli sapere che c'è un'alternativa e in particolare anche a quelli che non vanno più a votare che non si fidano più ma sì sono tutti uguali fategli capire che l'astensione è il miglior regalo che potete fare alla casta ciao Michele vabbè comunque fategli capire che l'astensione è il miglior regalo possibile che potete fare alla casta perché è proprio quello che vogliono spesso anche queste tonnellate di liste patacca che sotto sotto sono promosse poi dalle coalizioni maggiori servono proprio a farvi disamorare il voto a non farvi più andare a creare confusione a convincervi che tanto la politica non serve più invece la politica è una cosa bella è una cosa molto importante perché la politica è l'unica cosa che può ridare un po' di speranza a questa città e a questo paese e senza la speranza non c'è vita Grazie!